Musica Lavora Gapnate, cule una furia, sposta Brown, se mi gancho, chi lo forza? Passo fuori, Becks finta, partenza in fondo, secondo tempo al vetro, c'è Andrea Becks, meno 3, possesso a 4 e 10 dalla fine, stop e go di Moraschini che si appoggia al vetro, gran canestro contro Thomas Adesso arriva una tripla fondamentale, Polonaro risponde Ora c'è Dyson Pierre che attacca Gapne, va in fondo, si arresta e schiaccia di mancina Grande giocata di Gapne che chiude l'area, poi Banks conduce, Brown, stavolta chiude, perché c'era solo Kant Fisso sulla palla vagante, accelerazione, tutto di mancino per Polonaro e allora piazzato, naturalmente la mano è la stessa Ora Banks isolato contro De Vecchi vuole batterlo, in arresto e tiro, canestrissimo di Adrian Banks che riporta l'Epicaz a meno 8 Meno 8 e tripla, comoda per Dyson Pierre Nerva 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 Grazie a tutti